L'amministratore della tesi, Luigi Punzo, è stato consigliere della BCC di Aquara nel triennio 2016-2019 ed è da sempre amico della nostra banca. Queste le parole di Antonio Marino, il direttore generale della BCC di Aquara. L'altro pomeriggio è passato a farci visita nella nostra sede amministrativa di Capaccio Pestum e si è trattenuto a lungo con me e con i dipendenti della banca. In questo particolare momento economico che stiamo attraversando un confronto significativo. Il Corriere della Sera ha dedicato un articolo al SEO Luigi Punzo su tesi e sulla sua innovativa officina delle idee. La tesi è una società leader in Campania nel settore delle tecnologie e dei servizi innovativi per l'aeronautica che si distingue in termini di ricerca e sviluppo, progettazione ed occupazione. Anche il Sole 24 Ore ha dedicato alla tesi un articolo relativo alla costruzione di scudi per la NASA. In tale occasione Luigi Punzo ha tracciato le linee per la ripartenza e pieno ritmo e per un futuro fatto di nuovi sogni e di lanci nello spazio. Nonostante la pandemia, la tesi è un'azienda estremamente solida e in netta controtendenza. È proprio in questo difficile periodo infatti che tesi dà vita a nuovi progetti e nuove sperimentazioni per contrastare le difficoltà del settore, cercando di conquistare nuovi mercati. Quattro le sue sedi. Oltre a Cercola, in provincia di Napoli, altre tre strutture sono site a Cicerale, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con oltre 10.000 metri quadrati coperti e circa 300 dipendenti del territorio selezionati, grazie alla costante collaborazione con le Università di Napoli, Salerno, Roma e gli istituti secondari di Bellizzi, Eboli e Roccadaspide.